L'ex presidente egiziano Osni Mubarak è stato condannato assieme ai suoi due figli a tre anni di reclusione nella riedizione del processo per malversazione di fondi destinati ai palazzi presidenziali. Mubarak era stato condannato a tre anni nel maggio 2014 ma la sentenza era stata annullata. Su Mubarak, 87 anni, pende ancora un ricorso della procura contro l'assoluzione nel processo per l'uccisione di manifestanti. Oltre alla condanna a tre anni, l'ex presidente e i figli Jamal e Alaa sono stati condannati al pagamento di una penale di oltre 14 milioni di euro corrispondente alla malversazione di cui erano accusati e alla restituzione di 2 milioni e mezzo di euro. La sentenza, secondo un avvocato della difesa, implicherebbe il ritorno in carceri dei due figli dell'ex Rais che erano a piede libero da gennaio.